E carissimi amici di Investire in Borsa Caccia di Dividendi, buon settembre a tutti. Allora, come vedrete in alto a sinistra, ve lo anticipo già, sto registrando questa puntata il 24 di agosto, mi sto mettendo le mani avanti perché iniziano le ferie anche per me, me ne vado un po' al mare, quindi preparo già un video. Chiaramente, quindi, tutti i dati che farò vedere oggi sono aggiornati il 24 d'agosto, spero che in una settimana, insomma, non cambi il mondo. Vedremo, vedremo insieme. Allora, come avete visto nel video, andremo a vedere quindi le migliori azioni da acquistare in settembre. Ovviamente, nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno può dire che sicuramente queste azioni che andiamo a vedere adesso avranno performance eccezionali, però è anche un'occasione per farvi vedere come funziona lo screener di Finviz che personalmente utilizzo frequentemente, ovviamente non è la panacea di tutti i mali, ma è comunque, secondo me, un ottimo punto di partenza. Vi farò vedere quindi quali sono i miei criteri per selezionare le migliori azioni, poi magari ognuno potrebbe, anzi dovrà calibrare la ricerca in base alle proprie necessità, in base ai propri obiettivi, in base alle proprie preferenze. Pertanto, andiamo subito a vedere il sito di Finviz, facilissimo, finviz.com. In alto, a sinistra, possiamo vedere come appena a destra di Home, dopo News, c'è lo screener. Andiamo quindi a cliccare sullo screener e si apre una pagina, chiaramente, con varie tipologie di parametri da andare a settare per cercare le migliori azioni da andare ad acquistare. Ovviamente, oltre a questo screener, è poi necessario fare anche un'analisi ulteriore, chiaramente, anche perché, come possiamo vedere adesso, in totale, Finviz ha nel database 8227 azioni, anche, scremando, scremando, è difficile poi scendere sotto le 30-40 azioni, e ve lo posso dire perché io una volta al mese, insomma, do un'occhiata per vedere cosa c'è di interessante, e, insomma, vengono fuori comunque tanti risultati. Vi anticipo, c'è pieno di pubblicità, non si può farne a meno, però il sito, insomma, è gratuito, quindi ben venga anche un po' di pubblicità se riesce a far mantenere gratuito questo servizio. Allora, il primo consiglio che posso dare è quello di non essere troppo stringenti nel settare i parametri, altrimenti c'è il rischio di perdersi alcune azioni buone. Troppo stringenti in che senso? Magari con parametri proprio tiratissimi, oppure mettendo troppi, troppi parametri. Insomma, bisogna trovare la giusta via di mezzo. Allora, per quanto mi riguarda, vado a sinistra nella prima colonna, seconda riga, market cap, quindi capitalizzazione di mercato, a me sinceramente piacciono le aziende ad alta capitalizzazione, quindi vado a scegliere le large cap, ovvero quelle con più di 10 miliardi di dollari di capitalizzazione. Poi, fatto questo, possiamo vedere come da 8 mila si scende a 900 azioni. Dividend yield io andrei a scegliere, proprio per non stare troppo stretti, a quelli con almeno l'1%, quindi over 1%. In questo modo, insomma, mi vengono fuori le azioni che comunque distribuiscono dividendo almeno dell'1%, ma non taglio fuori magari quelle comunque molto buone, come abbiamo visto la scorsa settimana, ad esempio, Stanley, Black & Decker, che però, diciamo, non verrebbe fuori se io mettesse un dividende yield almeno del 2% o 3%. Allora, fatto questo, io direi che nelle paginate descriptive siamo abbastanza a posto. Per quanto riguarda i fondamentali, andiamo a vedere quindi nella scheda fondamentali quali altri parametri possiamo andare a settare, andare a mettere a posto in base alle proprie necessità. Nel frattempo, mettendo anche il parametro del dividendo, possiamo vedere come si è attimizzato ulteriormente il numero delle azioni e siamo passati a 452. Allora, sicuramente la cosa che voglio nelle azioni che andrai a acquistare è comunque una crescita degli utili stimata nei prossimi 5 anni, quindi nella prima colonna, terza voce, EPS Growth, Next 5 Years. Allora, andiamo a mettere quanto meno positivo, quanto meno positivo. In questo modo, insomma, andiamo a prendere quelle azioni di aziende che prevedono di avere una crescita nei prossimi 5 anni senza comunque tagliar fuori quelli che hanno una crescita inferiore al 5%. Poi potremmo andare a mettere un, sembra nella prima colonna, due righe sotto, un rapporto debito-equity, possiamo andare a vedere, inferiore a 1, proprio per avere quelle aziende meno indebitate. Certo, se ci fosse un rapporto debito-equity ancora più basso, tanto meglio, ma nel frattempo passiamo a 205 azioni, quindi tagliato ulteriormente il numero delle aziende che stiamo guardando. Andrai poi a vedere il payout ratio, lo troviamo nell'ultima colonna a destra e anche l'ultima riga. Eccolo qua, payout ratio. Come detto tante volte, è il rapporto tra i dividendi distribuiti e gli utili incassati. Chiaramente più basso è questo valore, meglio è. Pertanto andiamo a mettere sotto il 70%. Non stiamo, diciamo, strettissimi. Sarebbe meglio anche un valore più basso, però sotto il 70% è già un ottimo valore. E scendiamo a 151 azioni. Allora, già volendo, adesso potremmo quindi andare a vedere queste 151 azioni. Sono tante, 151. Quindi, proseguiamo. Mettiamo tanti altri dati per cercare, insomma, di trovare le azioni ancora migliori. Andiamo col peg. Allora, il meglio sarebbe sotto 1. Possiamo, ad esempio, mettere sotto 2 per cercare di andare a schermare ancora di più. Stiamo facendo insieme e vediamo 85 azioni. E se noi andassimo a mettere sotto 1, meglio ancora, quindi un livello basso, andiamo a vedere quante azioni avremo? 36. Perfetto. 36, effettivamente, è un numero di azioni che si può andare a giostrare un pochino meglio. Direi che, insomma, abbiamo visto comunque tanti parametri che siamo andati a settare. Altri che potremmo andare a mettere. Non so, il qui grazio. Il PE, il rapporto price earning. O anche il forward PE, magari. Mettiamocelo. Forward PE. Possiamo mettere inferiore a 25. Sotto, ecco, under 25. Vediamo un po' se vengono schermate ulteriormente. Da 30 a 6 azioni si passa a 33. Insomma, una piccola schermatura. Allora, vediamo un pochino, tanto per andare a vedere che cosa potrebbe saltare fuori di buono in questo screener. Allora, sicuramente, tra quelli che conosco, poi ditemi magari anche nei commenti se ho lasciato fuori qualcosa che magari potrebbe essere interessante. Aigon, gruppo assicurativo olandese. Abbiamo Banco Santander Brasile. Insomma, da prendere un pochino con le pinze questa. Citigroup, un gruppo bancario americano, direi che non ha bisogno di grosse presentazioni. Chubb Limited, sempre gruppo finanziario svizzero, che qualcuno di voi, magari me lo ricordi nei commenti che è stato, me l'aveva, diciamo, evidenziato come ottima azione, tra l'altro priva della doppia tassazione svizzera. Così mi disse, chiedo conferma in merito. Altre azioni interessanti che potrebbero, diciamo, saltare fuori in questa ricerca. Invesco, sicuramente un asset management molto, molto interessante. Manulife, che mi salta sempre fuori. Altro gruppo assicurativo canadese e che forse dovrai andare a vedere meglio. Nella seconda pagina, poi andiamo a vedere come c'è Nucor, interessante azione americana. Ciaio, quindi materie prime. E poi vediamo un po' Prudential, eccezionale. Ce l'ho già in portafoglio. Purtroppo il prezzo si è impennato. Non si riesce a fare granché. Eternium, che è lo stesso Danilo che mi aveva evidenziato proprio pochi giorni fa Stanley Black & Decker mi aveva evidenziato anche Eternium qualche mese fa. Lui ha avuto la bravura, il coraggio di andarla a comprare. Io sinceramente non la conoscevo. Azienda lussemburghese, anche questa, attiva nel settore dell'acciaio. Guardate in questo grafico che impennata che ha avuto. e il buon Danilo se l'è presa tutta questa impennata. Allora, direi che per quanto riguarda questo screener abbiamo visto tante cose e spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quali sono i parametri che voi di solito utilizzate su Finviz. Fatemi sapere eventualmente se esistono altri screener interessanti online, possibilmente magari gratuiti. e poi insomma se vi piacciono video di questo tipo mettete un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e soprattutto ditemi se vi piace un video di questo tipo magari fatto all'inizio di ogni mese per vedere cosa c'è sul mercato di interessante. Un saluto a tutti da Lorenzo a presto e ciao! Grazie a tutti!